Buongiorno, Riccardo Rossi di Red Fluid Dynamics, siamo stati ben lieti di partecipare a questo evento, ci occupiamo di simulazione fluidodinamica, quindi abbiamo a che fare con i fluidi, aria e ovviamente anche acqua tutti i giorni e siamo molto contenti di poter portare la nostra esperienza in questo evento e poter interagire sia con le aziende che con tutti gli altri partecipanti.